4 candidati sindaco, 12 liste civiche per quasi 190 consiglieri candidati. Sono i numeri delle elezioni amministrative 2018 a Sestre Levante, dove il prossimo 10 giugno i 17.207 elettori saranno chiamati alle urne per scegliere i componenti del nuovo consiglio comunale e il primo cittadino. Si sono chiusi oggi a mezzogiorno i termini per la presentazione all'ufficio elettorale sestrese dei nominativi e delle liste in corsa. Effettuati i controlli di routine, i responsabili procederanno nelle prossime ore al sorteggio per stabilire quale sarà l'ordine con il quale i quattro candidati compariranno sulla scheda elettorale. Vediamoli comunque in rigoroso ordine alfabetico i candidati e le liste che li sostengono. Denise Baldi è la candidata a sindaco per la lista potere al popolo, 30 anni, insegnante precaria e ha la sua prima esperienza politica. Gian Paolo Benedetti, 63 anni, commercialista, già dipendente di Fincantieri ed ex presidente del circolo pescatori dilettanti e candidato a sindaco per l'area di centrodestra. Sarà sostenuto da 5 liste, Lega Liguria, Riprenditi Sestri, Gian Paolo Benedetti sindaco, Futuro Migliore, Segesta Domani. Valentina Ghio, 47 anni, sindaco uscente al suo primo mandato e in precedenza assessore nella giunta del sindaco Lavarello. è il candidato a espressione del centro-sinistra ed è sostenuta a sua volta da 5 liste, Valentina Ghio sindaco, Viviamo Sestri, Sestri al centro con Calabro, Sinistra in comune, Cristiani riformisti. Fabio Sturla, 38 anni, dipendente della Fincantieri, è il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle. Saranno questi 4 a sfidarsi all'ultimo voto nella tornata elettorale del prossimo 10 giugno. Se dalle urne non uscirà un candidato sindaco che avrà raccolto il 50% più uno dei voti, i due più votati andranno al ballottaggio. In questo caso si tornerà alle urne domenica 24 giugno.